Sindaco Simona Valente, in questa giornata possiamo dire il fulcro del progetto legato al turismo delle radici. Questa serata è stata proprio il cardine, il cuore del progetto. Il progetto turismo delle radici è rivolto proprio al rientro di coloro che hanno lasciato questa terra per le varie motivazioni. Il poter rientrare, il poter trovare un ambiente che consenta loro di rivivere quelle che sono le tradizioni, quelli che sono gli spaccati sociali, gli spaccati culturali. Sicuramente con un valore aggiunto, con una motivazione che è forte, perché quella di creare un ponte e un appuntamento che diventi fisso. Io mi auguro non solo estivo, quindi dare proprio una possibilità ai nostri connazionali, ai nostri migranti, di trovare sempre un paese pronto ad accoglierli, un paese ospitali che consenta loro di rivivere tanti momenti e di guardare al futuro con un gemellaggio e con un legame che sia forte e che sia costante. Siamo in compagnia di Igor Picciano, assessore del comune di Campochiaro, delegato alla cultura e alle tradizioni popolari. Ecco, lei ha analizzato attraverso le lettere dell'epoca i sentimenti delle migranti. Le lettere rappresentano l'unica testimonianza che abbiamo di tutto quel patrimonio che rappresenta il fenomeno migratorio. Ed è proprio lì, grazie a queste lettere, che noi abbiamo delle testimonianze vere e sentite di quello che comunque hanno sofferto i primi migranti campochiaresi. E in base anche a tutto questo corpus di lettere c'è un'analisi attenta di quelli che sono i sentimenti che vivevano gli migranti, perché nessuno lasciava la terra d'origine con leggerezza, ma soprattutto affrontavano quel lungo viaggio della speranza con la voglia di affermarsi, con la voglia di realizzarsi, soprattutto con la voglia di emergere, ma molti partivano con la voglia di poter tornare, quindi di creare la fortuna e di poter tornare. C'è in questo carteggio conservato e raccolto da me in questi anni, dove molti esprimono una condizione di netta inferiorità rispetto ad altri che hanno potuto realizzarsi in maniera più celere. Però quello che mi preme sottolineare è proprio che queste lettere rappresentano una testimonianza storica che va salvaguardata e tutelata, soprattutto tramandata alle generazioni future affinché anche loro scoprano e riscoprano quella che è stata la storia dei nostri antenati. Grazie. 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 Grazie.